Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto bene? Hai tutto il bambino? Sì, che sta provando... Ti piace? Sì. Ha detto che adesso se la compra. Oh, sì, infatti. Guarda come interessante... Invece... Però con l'altro ultimamente non li si vuole più tanto. Questa invece è più bassa. No, no, no. E sopra c'è la potenza, perché invece l'asse. Ha un po' più fuori. Avvita su. Sai che ha il retto verde? Vai su, salto, vai su. Invece di andare a destra, a destra, vuoi il dritto. Grazie. 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 Un po' più forte sul suolo. Un po' più forte 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 suolo.